Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono code a tratti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma tra Aio e Calenzano, tra Firenze e Scandici e Incisa e Reggello e tra Valdarno e Arezzo. Sulla A11 i rallentamenti tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla A12 per traffico intenso, code a tratti tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo con code allo svincolo di Rosignano. In A15 sempre per traffico intenso, code a tratti tra Aulla e il Bivio per la A12 in direzione La Spezia. Sulla Fipilì per un veicolo in avaria, rallentamenti in direzione mare tra Lastra, Assigna e Ginestra Fiorentina. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!